Emerson, Palmieri e la Roma, due strade che si sono separate nel mercato invernale del 2018 con l'allora di S Monci che decise di mandarlo al Chelsea e prendere al suo posto l'irreprensibile Jonathan Silva, due strade però che potrebbero ricongiursi nel mercato estivo di quest'anno. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di lasciare subito tanti mi piace e se volete un'iscrizione anche al canale attivando la campanella per ricevere notifiche sempre aggiornate. Se volete seguirmi anche su tutti gli altri profili social i link sono in descrizione e sapete che a me fa tanto tanto piacere e a voi, almeno per il momento, non costa nulla, a parte gli scherzi. Parliamo di una voce di mercato che vedrebbe il terzino sinistro italiano a tutti gli effetti proposto anche alla Roma. Il giocatore non si è mai ambientato appieno al Chelsea e non ha mai trovato la giusta continuità nonostante l'importante spesa fatta per acquistarlo e si stanno facendo le voci di numerosi club italiani. Su tutti la squadra che è in vantaggio però non è la Roma bensì l'Inter. Forte comunque della vittoria dello Scudette quindi di un appeal maggiore rispetto alla Roma è quella anche che ha fatto i primi passi cercando di convincere il giocatore e appunto dargli il minutaggio che magari non ha avuto con il Chelsea. Oltre all'Inter però c'è anche l'interesse della Roma. Una squadra che attualmente ha spinazzola su quella zona di competenza ma che ha bisogno secondo me di una valida alternativa. Di solito quando ci sono questo tipo di affari il tifoso medio è pronto a dire non voglio le minestre riscaldate. Salvo rarissime eccezioni di gente come magari Alisson, Salah che ho letto qualcuno che non rivorrebbero perché hanno tradito la Roma o cose di questo tipo molto spesso quando questi giocatori vengono riproposti alla Roma non c'è molto ottimismo a riguardo. Diciamo che il tifoso pensa principalmente che bisogna guardare al futuro. Nel caso di Emerson però sono sincero considerando le eventuali modalità e la situazione che sta vivendo il terzino-sinistro è una minestra riscaldata che mi stuzzicherebbe assai diciamo e vi spiego ovviamente il perché. Considerando spinazzola intoccabile anche con l'eventuale passaggio al 4-2-3-1 perché come Carthorpe ha dimostrato anche un terzino di spinta può adattarsi ad un compito difensivo considerando lui comunque il titolarissimo abbiamo bisogno di un'alternativa che ora come ora nel momento in cui sto registrando questo video Calafiori non è. Non tanto dal punto di vista tecnico quanto più fisico. Purtroppo Calafiori non ha mai risolto al 100% i numerosi problemi fisici che lo hanno massacrato dall'inizio della carriera vi ricordo che ha dovuto subire due rotture del legamento crociato e anche alla fine di questa stagione è stato fuori per più di un mese purtroppo e lo sottolineo purtroppo perché le potenzialità e il giocatore ce le ha tutte considerando il suo percorso di crescita, considerando il suo potenziale e la sua giovanissima età, credo che per lo stesso Calafiori la cosa migliore sarebbe andare in prestito lo mandi in una squadra di medio-bassa classifica della Serie A che comunque gli deve assicurare un buon minutaggio non prestiti stile fusato che vanno lì e non giocano mai poi dopo aver appunto fatto le giuste partite e acquisito la giusta mentalità per giocare con continuità in Serie A lo puoi far ritornare alla base attualmente Emerson è un'occasione d'oro perché è un giocatore che vuole andarsene via che ha vinto la Champions con il Chelsea e su questo siamo d'accordo ma non da protagonista ha bisogno di ritrovare la forma di un tempo e soprattutto una squadra che gli dia fiducia per questo l'Inter è quella che si è mossa per prima perché attualmente su quella zona sono un po' deficitari visto che Young se ne dovrebbe andare alla fine di questa stagione visto che magari ci si può mettere Dalmian ma non è proprio il massimo per una squadra che vuole confermarsi su alti livelli Emerson è un'occasione d'oro giocatore che comunque viene convocato in maniera fissa dalla nazionale lo avete visto anche dalle convocazioni per l'europeo che c'è lui e tra l'altro facendo un pochino un paragone sempre comunque rifacendomi alla possibilità che possa tornare alla Roma si giocherà il posto proprio con Spinazzola non a caso infatti è uscito un articolo diverse settimane fa di un'intervista di Emerson legata alla nazionale con una frase con il giocatore che ha detto la concorrenza con Spinazzola non mi fa paura ovviamente quel momento era legato alla nazionale ma non sia mai che magari si possa ripetere diciamo questa competizione tra i giocatori anche con la maia giallorossa io vi dico la verità alle giuste condizioni per me sarebbe un ottimo colpo ovviamente dubito che il Chelsea riesca a cederlo definitivamente visto appunto la spesa fatta un po' di anni fa credo che la cosa più probabile sia un prestito con diritto barra obbligo di riscatto sui 20-25 milioni penso che ci possa stare visto che hanno speso questa cifra tre anni fa e il giocatore non si è proprio confermato su quei livelli ha avuto momenti molto molto importanti culminati con la finale in cui segnò contro l'Arsenal in Europa League però in quest'ultima stagione non ha giocato quanto si aspettava e quanto tutti i tifosi effettivamente si aspettavano da lui attualmente quindi è un'occasione molto molto importante avere sulla fascia Spinazzola ed Emerson Palmieri per me vorrebbe dire fare un salto di qualità avere due pronte alternative avere due giocatori che sanno fare quel determinato ruolo Emerson è rinato praticamente con Spalletti sempre giocando con un modo con la difesa a quattro quindi non sarebbe così assurdo rivederlo su quella zona di competenza il giocatore ha delle buone capacità sia dal punto di vista difensivo che offensivo quindi la considererei un'ottima opzione poi ovviamente non è l'unica e sicuramente la Roma ha necessità di rinforzare altri ruoli principalmente come la porta, la difesa, il centrocampo praticamente tutto se vogliamo essere un po' puntigliosi e la fascia sinistra comunque bene o male ci può stare in questo momento però io sento che per poter fare quel salto in più serve maggiore esperienza serva maggiore consapevolezza e Emerson fa al caso nostro visto che appunto poi è abituato anche a giocare in nazionale con Spinazzola sarebbe la cosa migliore tra l'altro se dovesse concretizzarsi questa voce e dovesse rimanere Florenzi tu praticamente avresti quasi tutti gli esterni di difesa della nazionale italiana perché ora come ora hai già Florenzi e Spinazzola prendendo anche Emerson ne avresti praticamente 3 su 4 il che comunque non sarebbe male se poi consideriamo anche la voce molto difficile di Donnarumma perché vorrebbe dire che tu vuoi andare sull'italiana diciamo e già hai Mancini al centro che sa fare il caso, sa fare il suo lavoro quindi non sarebbe una strada sbagliata secondo me poi certo un giocatore non va considerato dalla nazionale nel senso l'Inter ha vinto il triplete con due italiani quindi non è che io adesso dico viva gli italiani andiamo avanti con loro e se c'è uno straniero forte chi se ne frega voglio l'italiano meno forte assolutamente no però per rivalorizzare la nostra nazionale credo che non ci sia cosa migliore che dare il minutaggio e avere una squadra con i migliori giocatori italiani quindi ricapitolando il tutto Emerson indubbiamente non sta vivendo un momento eccezionale proprio per questo motivo si deve affondare il colpo il giocatore ha 26 anni e ancora nel pieno della sua maturità calcistica quindi un tentativo secondo me bisognerà farlo poi se il giocatore preferirà andare all'Inter o in una qualsiasi altra squadra va benissimo non è che mi strappi i capelli lo sottolineo però prendere lui al posto di Calafiori che sottolineo non deve essere ceduto definitivamente ma mandato in prestito sarebbe un miglioramento molto molto importante per l'obiettivo che il prossimo anno dovrà essere assolutamente raggiunto e cioè la qualificazione alla prossima UEFA Champions League detto questo ragazzi allora mi invito come sempre a scrivermi nei commenti cosa ne pensate non solo del mio video ma anche del giocatore in questione se lo vorreste rivedere a Roma se vi potrebbe piacere oppure se preferite altri nomi vi ricordo che nei prossimi giorni usciranno due video molto molto importanti il primo è la S Roma 2021-2022 chi tenere e chi sbolognare in cui vi dirò cosa ne penso dei giocatori che attualmente fanno parte della Rosa della Roma chi terrei, chi presterei e chi cederei definitivamente successivamente uscirà il tanto agognato Costruiamo la Roma 2021-2022 che ho fatto ogni anno ed è sempre andato bene ma quest'anno ho come l'impressione che con l'arrivo di Murigno potrebbe essere ancora più apprezzato quindi vi aspetto intanto per questi due nuovi appuntamenti noi ci vediamo come sempre a un prossimo video un saluto e sempre Forza Roma ciao ragazzi